Le donne contro la violenza alle donne, percorsi di consapevolezza e libertà. Il tema era complesso, ma è stato affrontato con estrema semplicità e concretezza in un incontro che si è tenuto a Villarendano, a Cosenza, organizzato dal Parco Storico Giuseppina Lemaire, in collaborazione con la Fondazione Attilio e Elena Giuliani Ollus e la Fondazione Fidapa, tanti gli interventi di chi cerca nel concreto di aiutare le donne vittime di violenza. La violenza è strutturale, cioè è nella cultura, nella cultura della diseguaglianza, della disparità e per cui per cambiare le cose ci vuole un cambiamento culturale. Noi come centro aiutiamo le donne ad uscire fuori dalla violenza, per il cambiamento culturale non basta, ci vuole l'impegno dell'istituzione. È importante che si denunci, è stato sottolineato, ed è importante che si parli di questi temi per far crescere la coscienza sociale del problema. Noi vogliamo parlare, non vogliamo che si spengano i riflettori su questa tematica drammatica, anzi spesso tragica, e vogliamo però parlarne con un occhio anche nuovo, cioè parlare della violenza oggi, di ciò che si fa, della consapevolezza delle donne di fronte alla violenza che subiscono, ma anche vorremmo dare a questa riflessione una dimensione storica, cioè utilizzando gli archivi a partire dal Cinquecento noi troviamo tante storie di donne coraggiose che hanno avuto appunto il coraggio della denuncia in tempi non sospetti.